io sono ancora qua cinzia cinzia dice ma com'è possibile il calciomercato è finito il calciomercato è terminato ma le bombe quelle nere non si fermano mai mamma che bombe oddio è una cosa di quelle pazzesche io vi invito a lasciare una marea ragazzi una marea di mi piace su questo video se volete che le bombe quelle vere decinzia continuino per tutto l'anno ovviamente non un episodio giornaliero magari un episodio che andiamo a raccorpare tutte le ultime bombe della settimana uno due episodi settimanali fatemi vedere tutto il vostro supporto mi raccomando iscrivetevi a questo canale youtube e attivate la campanella per non perdervi tutte le mie ultime notifiche fate la stessa cosa anche sul mio primo canale youtube se cliccate qui trovate tutto ma vi renderete conto di quello che sto a parlare ci sono dei retroscena juventus che vi lasceranno a bocca aperta ma non solo perché ci sono delle bombe di calciomercato per gennaio del neri è stato esonerato dopo due giornate dal brescia torna indovinate pochi lopez ci stanno a capincazzo ragazzi lo stesso del neri ha detto senti a me mi pare che c'ha 70 non mi è mai capitata una cosa del genere in vita mia questi non stanno bene col cervello non lo ha detto questi non stanno bene col cervello l'ho pensato io perché insomma dopo due giornate non c'hanno le idee molto chiare perché beh e richiamano quello è successo con corini e richiamano quello e richiamano cazzo stato a fare cioè prendete una decisio allora bezemà ha dichiarato che in futuro molto molto probabilmente farà l'allenatore e so curioso di vederlo a far l'allenatore perché secondo me è un concludo in cazzo ecco sto scherzando non lo so boh poi ci stanno certi allenatori che uno dice non gli dai una lira e diventano quelli invece che dici questi diventeranno fotti pippe di quelle clamorose non lo so bezemà a livello offensivo lo conosciamo però tra il giocare e l'allenare c'è di mezzo il cane no il cane che c'è stato in mezzo il mare no non lo so quello che c'è stato in mezzo cominciano le bombe dei calciomercato italiane ripeto ce n'è una sulla juventus che vi lascerà particolarmente a bocca aperta ma vorrei partire diciamo in maniera più soft come sempre per poi andarvi a snocciolare quelle più quelle più pesanti a Samoa a Samoa sappiamo con l'inter non ha mai trovato spazio le nonne e le zie e via dicendo si è svincolato dall'inter potrebbe andare o alla Sampdoria o nelle ultime ore si sta parlando di Brescia dove troverà del neri no non lo troverà del neri e raga a Samoa da qualche parte dovrà pur a na ci ho fatto pur a Rima perché a me personalmente è sempre piaciuto come giocatore io non capisco come non possa vederlo Antonio Conte ci stanno quegli allenatori che si fissano e dicono io questo me ne può fregare che ha proprio dei miei raga ma voi ricordate a Samoa ma poi è polifunzionale questo fa tutto te fa la fascia te fa il centrocampo te fa l'esterno A a me è sempre piaciuto ma non so a che condizioni fisiche sta perché non l'ho più visto però non mi dispiacerebbe vediamo chi se lo accaparrerà questa va devo dire il polpo polpo va ragazzi c'ha un contratto in scadenza se non sbaglio che è 2021 però mi pare che c'ha l'opzione di rinnovo per la stagione successiva lui ha detto Real Madrid un sogno perché no in futuro mai dire mai continuo a lanciare messaggi d'amore praticamente dappertutto tranne che è Manchester United dove tra un problema una cosa e un'altra continuo a starci come nulla fosse io sta cosa sinceramente non l'ho capita un giornale spagnolo è sicuro che il futuro di Pogba è la Juventus se dice tutti l'anni se dice Pogba alla fine rimane sempre là all'anno prossimo se dice Juve se dice Real rimane sempre là questo non ve lo posso dire però lui insomma ha detto un sogno andare ad allenare ad allenare Real Madrid eh sì andare ad allenare andare a giocare a Real Madrid dove c'è Real Madrid dove c'è un allenatore come Zin e Zin 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 che a capocciata ti fa capire le cose ok Juventus vi dico prima quella più leggera e poi andiamo a salire di livello Frabotta sta per rinnovare lui ha un contratto giovanile e per giovanile si intende qualcosa come 80.000 euro all'anno ben giovane mortacci mamma mia manco 300 anni allora e niente gli passano praticamente con il rinnovo con te 200.000 euro all'anno stiamo parlando di cifre veramente 200.000 euro in un anno mamma mia e va bene così quindi puntano fortemente sul calciatore ovviamente Andrea Pirlo punta fortemente sul calciatore vi dico questa della Lazio allora c'è uno svincolato di lusso che si è liberato dal Valencia ma lui c'ha avuto un problema grave legamento crociato rotto e via dicendo e la Lazio se lo vorrebbe portare a casa per rinforzare il proprio reparto stiamo parlando di gare garai ecco fate attenzione perché tutto potrebbe accadere ci avete presente De Paul dove vanno Eilis lo chiama e quelli lo chiamano e quell'altri lo chiamano bene ha parlato lui e ha detto sono lusingato perché pure l'Atletico Madrid era fortemente interessato a lui ha detto sono fortemente lusingato dalla corte dell'Atletico Madrid dal solito Simeone e praticamente ha detto un giorno mi piacerebbe essere allenato da da Simeone mi piace la sua filosofia di gioco e via dicendo fate attenzione perché De Paul è un altro che sta sempre sulla bocca del calciomercato De tutti potrebbe andare da qua potrebbe andare da là a fine non va mai da nessuna parte meno male a sto giro perché ce l'ho io al fantacalcio tanto i rigori non gli danno all'Udinese quindi quando segna mai praticamente allora Sarri sta trattando in queste ore la rescissione del contratto con la Juventus stanno circolando delle voci che mi stanno facendo un po' non dico preoccupare però comunque addrizza alle orecchie si dice che Iachini non sia poi così sicuro del posto in panchina con la Fiorentina e che Sarri potrebbe essere una valida alternativa in un futuro non poi così lontano proprio per la Fiorentina ma c'è chi dice e continuano a circolare queste voci che destabilizzano l'ambiente che Fonseca così come Iachini non è che è poi così sicuro di restare alla Roma e si dice che per un futuro chi lo sa Sarri potrebbe essere un'alternativa e va bene ve dico questo è pesante ve dico prima questa Goetze al PSV ha firmato un biennale da svincolato sono felice sono veramente felice di giocare di stare a chi e vediamo quel che succederà priorità del Milan attualmente è sui rinnovi di Donnarumma e Cialanoglu due calciatori molto molto importanti per loro non sarà facile soprattutto per Gigio e Donnarumma il nodo principale ovviamente è la clausola rescissoria quando c'è De Mezzo Minoraiola i cari tifosi del Milan sanno di quello che sto che sto parlando quindi io credo che alla fine rinnoverà Gigio Donnarumma sarebbe uno scandalo a ciel sereno come dice il buon Fabio qualora non dovesse rinnovare poi però never say never ne sapremo di più sicuramente nei prossimi giorni regali scadano nel 2021 per non mannarlo in scadenza secondo me intanto già c'è andato però insomma vediamo vediamo c'è filtra ottimismo il Liverpool si è assicurato un classe 2002 portiere altro brasiliano prelevato dalla Fluminense stiamo parlando di Marcello Pitaluga vero è di Alisson no non lo so sto scherzando però ne parlano tutti benissimo vediamo quel che accadrà questa è grossa tifosi della Juventus ma ce n'è una ancora più grossa Juventus secondo un quotidiano un giornale sportivo di quelli importanti spagnoli nel 2021 diverrà un nuovo calciatore della Juventus è un'espressa richiesta fatta da Andrea Pirlo vediamo se sarà vero ricordate queste parole e poi ne riparleremo Ashley Young se mi chiamasse Watford ci andrei immediatamente se non sbaglio il Watford è da dove è cominciato tutto per Ashley Young lui ha talmente tanta riconoscenza ha talmente tanti bei ricordi del Watford che vorrebbe appunto tornare un problema per Antonio Conte io ne frega un cazzo morto un papa se ne fa un altro restando in tema Inter non tramonta l'idea per i nerazzurri di accaparrarsi Gervinio ebbene sì perché quel tentativo in extremis è un tentativo che verrà rifatto non appena riaprirà il calcio mercato perché sembra che manca proprio uno che quando si alza la tendina davanti diventa pelato mette paura i difensori avversari e lo mandano a rete come sto scherzando ovviamente sembra che sia il profilo ideale richiesto da Antonio Conte per non dare punti di riferimento quindi preparatevi che sicuramente arriverà un nuovo tentativo e questa questa pure è grossa se dice che Paratici era uscita e sta riuscendo Paratici abbandonerà la Juventus andrà via o cacceranno a carci nel culo bene potrebbe approdare alla S Roma la S Roma che attualmente ancora non c'ha una figura dirigenziale ma fate attenzione perché Frittin tutti e due sono rimasti ammaliati da Rangnick una cosa è certa che noi da qualcuno dovrà pur venire vediamo quel che accadrà e vuoi lasciato per ultima la bomba questa è una bomba veramente sapete che la Juventus prima di dare da Clascosta al Bayern Monaco aveva contattato il Real Madrid e gli aveva detto ti do da Clascosta mi dai Marcello e sembra che le parti avessero iniziato insomma ad intavolare una trattativa poi le tempistiche una cosa in altra da Clascosta è stato mandato al Bayern Monaco e non se n'è fatto più nulla sarebbe clamoroso qualora venisse confermato ma c'è chi dice che Marcello è un sogno che potrebbe diventare realtà in futuro per il prossimo calciomercato una marea di mi piace su questo video mi raccomando arriviamo almeno a 3500 mi piace entro la prima ora se domani volete un nuovo episodio fatemi vedere tutto il vostro supporto iscrivetevi a tutti e due i miei canali youtube cliccate cliccate attivate le campanelle profili social instagram compreso tutto in descrizione e contenuti consigliati ci vediamo alla prossima con un nuovo video pensavate che bombe ci sono è pieno è pieno ciao